e questa la puntata che tutto il mondo del web e non solo sta aspettando telebari social night in versione rock con un super ospite ma anche una super co conduttrice Giuliana Vendola grazie Andrea non c'è presentazione migliore bentornati a telebari social night e allora diciamolo oggi è il giorno giusto nel terzo spazio ci sarà con noi in presenza l'abbiamo corteggiato tantissimo Mattia Zenzola sì l'abbiamo già registrata quindi c'è già ma prima vogliamo essere sempre il programma più giovane ci proviamo e vogliamo essere sempre aperti al dialogo vero Giuliana quindi avremo degli spazi dedicati soprattutto ai più giovani proprio i giovani però iniziamo con la top 3 il web non dorme oggi vero? non dorme mai il web quali sono le tre parole più cercate di oggi? primo posto abbiamo Kate Middleton intervento chirurgico all'addome sta bene ci dicono sì l'abbiamo chiamata poco fa sì sì tutto a posto secondo posto Samsung Galaxy S24 penso sia l'ultimo uscito e dopo questa pubblicità ce lo devono regalare per forza sicuramente terzo posto Rai Uno mio fratello rincorre i dinosauri ieri sera in prima serata un bellissimo film che si collega un po' anche a quello di cui andremo a parlare oggi si collega per l'inclusione e la bellezza della diversità una bellezza che noi ritroviamo nelle nuove generazioni Andrea assolutamente la celebriamo finalmente dopo esserci nascosti un po' adesso vogliamo celebrarvi tutti partiamo con questo rvm e poi diamo via a un talk molto interessante a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buoni progetti da attivare sui nostri territori. E quindi nel 2017, devo dire, grazie ad una ragazza di Gioia del Colle, una studentessa dell'Università di Bari, che ha fatto una tesi di laurea alla London School, di specializzazione, devo dire, di master alla London School of Comics, proprio sulle politiche sociali e su quelli che potevano essere gli strumenti da utilizzare con i giovani e i giovanissimi. Quindi ha scoperto che in Italia esisteva già un primo esperimento del genere e così abbiamo scoperto questa chat di nome Yangol, che è stata ideata e attivata effettivamente da Stefano Alemanno, un educatore della regione toscana, che ha vinto anche nel 2014 un premio dal Ministero della Salute proprio come buona prassi. Quindi una buona prassi attivata a livello nazionale. Ci abbiamo messo un po' perché, diciamo, economicamente avevamo necessità di avere dei fondi per poter sostenere l'inizio, la start-up, l'inizio di questa bellissima avventura. E grazie a dei fondi strutturati, diciamo, che abbiamo potuto attivare attraverso degli sponsor, che io, se posso, vorrei effettivamente ricordare, perché ci seguono da tempo, Terza Ampuglia, l'associazione Dario Favia Lasciateci Leali e, in ultimo, i Rotary Bari Castello, che hanno sposato in pieno l'iniziativa e seguono ogni nostra attività. Dalla formazione che è cominciata ad ottobre 2023 fino ad oggi, considerate che la chat è attiva dal 3 gennaio 2024. Ok, quindi super nuova. Qual è il bacino d'utenza per questa chat, per questa applicazione? Tutti giovani e giovanissimi. In realtà, sapete bene che, diciamo, il web è illimitato. La particolarità è proprio che i giovani vengono ascoltati da altri giovani, che sono ragazzi tra i 15 e i 25 anni che abbiamo opportunamente selezionato, noi dell'associazione Restart, e abbiamo formato insieme ai formatori nazionali che sono scesi qui a Bari, e insieme a tutti gli psicologi di Restart, ognuno ha dato il proprio contributo e continua a darli. Abbiamo due giovani psicologhe, io, diciamo, mi occupo più che altro della parte scientifica, ma ci sono due giovani psicologhe che si occupano di coordinare i peer. Perfetto. Vitiana, nella pratica, come funziona questa chat? Allora, questa chat è attiva due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, dalle 21 alle 23. I ragazzi hanno l'opportunità, al momento, di scaricarla dall'App Store o da Google Store, e quindi iscriversi con un nickname, una password, e poi registrarsi e entrare. In anonimato, è tutto anonimato, ci possono contattare in realtà in qualsiasi orario, e noi siamo attivi e possiamo rispondere negli orari indicati prima, quindi dalle 21 alle 23. Qualcuno potrebbe storcere il naso per questo dialogo tra coetanei, perché i coetanei sono meglio di uno psicologo che poi forse viene dopo? Esatto, allora, diciamo che questa applicazione si basa sulla peer education, no? Quindi è il ragazzo coetaneo che ci aiuta a esprimere quelle che sono le nostre difficoltà, perché non si ha paura di quello che può essere un giudizio di un adulto, di un genitore, di uno psicologo, di un insegnante. Quindi, diciamo, ci si allinea con le stesse esperienze e quindi si sente più liberi di esprimere quelle che sono le problematiche adolescenziali, no? e quindi esprimere il disagio. Giuliana, sarebbe bello conoscere questi peer. Sarebbe stupendo e secondo me ce la possiamo fare. Vediamo se c'è un collegamento pronto con noi. Apriteci il collegamento, eccolo. Ciao ragazzi. Allora, dietro questa applicazione ci sono le vostre menti e le vostre facce, vero? Sì, sì. Ovviamente non siamo solo noi, stanno anche altri. che non sono presenti. Che salutiamo. Voi siete una piccola, fortunata rappresentanza che siete ospiti a Televari Social Night. Su che argomenti, diciamo, siete contattati? Venite contattati. Diciamo che gli argomenti principali di cui spesso ci ritroviamo poi in chat sono problemi adolescenziali classici come magari problemi in relazioni amorose, quindi dalla semplice essere magari rifiutati in un possibile ragazzo o ragazza o magari a volte capita anche disagi, magari nei confronti del proprio aspetto fisico, che magari si possono manifestare in luoghi diciamo pubblici, come magari quando ci si ritrova magari in palestra con i propri coetanei, magari ci si sente disagio con il proprio aspetto e magari si ha paura di essere giudicati dai propri stessi coetanei. Quindi queste sono principalmente recenti, diciamo, chat che abbiamo ricevute, diciamo, però ci sono anche problemi che a volte magari si possono manifestare un po' più seri, da magari altro lesionismo, piuttosto che magari altri disagi un po' più particolari, ecco. Ragazzi, cosa vi ha spinto a diventare peer, ad aiutare gli altri? Beh, direi l'empatia perché diciamo noi siamo persone che diciamo abbiamo voglia e abbiamo anche piacere nel sentire e provare ad aiutare i nostri amici, anche persone che non conosciamo realmente, ma semplicemente che conosciamo da un messaggio che riceviamo. Diciamo, siamo contenti di poter aiutare gli altri. Vorrei sottoporre agli ospiti in presenza e a distanza un articolo di Repubblica. Parla della nuova generazione, molti like, pochi amici. Rimaniamo qui in studio e poi arriviamo da voi nella sede operativa. È una realtà? È una realtà, considerate, io sono psicologa dell'età evolutiva ormai da più di vent'anni. Diciamo, questo fenomeno negli ultimi dieci anni, devo dire che si è intensificato moltissimo. In effetti i messaggi che arrivano in questa chat, ma che sono arrivati anche a noi psicologi negli ultimi anni, sono tutti quelli di solitudine, progressivo isolamento sociale e difficoltà ad evitare, a interagire con i coetanei per evitare il giudizio. Perché poi i ragazzi sanno come farsi male. Certe volte dicono delle cose per cui tante volte si fanno del male da soli, anche nelle loro interazioni. Quindi la massima aspirazione in realtà di progetti come questo è anche di poter insegnare un linguaggio diverso, anche nello scritto, perché loro utilizzano molto, questa nuova generazione utilizza moltissimo il messaggio, il testo attraverso i vari social che non citiamo neanche, perché ormai sono tantissimi. Però è bene anche scrivere in un determinato modo, quando vogliamo comunicare la vicinanza all'altro. Andiamo alla sede operativa. Per alzata di mano, chi è d'accordo con questo articolo di Repubblica? I giovani. Tre su quattro, perfetto. Giuliana? Io sono anche d'accordo ovviamente, però lascio parlare i piedi. Benissimo. Io voglio rivolgere una domanda proprio ad Antonella, che è lì con i ragazzi. Per quanto riguarda i disturbi del comportamento alimentare, di cui si sta parlando tantissimo ultimamente, perché il governo ha tagliato dei fondi, ecco, vi sono arrivati dei messaggi anche in questi termini? Allora, sui disturbi del comportamento alimentare no, però sicuramente messaggi di problematiche che è legati al proprio corpo, quello sì. Quando subentra un disagio che è più grande, intervenite voi? Assolutamente sì. Sì, infatti noi ovviamente stiamo sempre lì a supervisionare. Nel momento in cui il ragazzo, la ragazza sta entrando in difficoltà o comunque il tema è un po' più più delicato, subentriamo noi. Sforiamo di qualche secondo, ma l'argomento è super importante, anzi magari questo è un primo capitolo di un piccolo racconto, poi magari lo estenderemo se ce ne darete la possibilità. Vengo da Vitiana, chi deve scaricare l'app da un punto di vista psicologico? È il ragazzo stesso o deve ricevere magari un invito, un suggerimento da un genitore? Com'è meglio? Allora... Bella domanda. Bella domanda, sì. Bello che te lo sia detto anche da sola. Non ci avremmo pensato, fantastico. Diciamo che noi, anche i ragazzi attraverso i social, cercano di pubblicizzare su piattaforme che vengono utilizzate dai ragazzi adolescenti, quindi la fascia d'età è sempre quella. Io ricordo che quando ero adolescente, quando i miei genitori mi dicevano qualcosa, puntualmente non la facevo, quindi forse sarebbe meglio il passaparola, non lo so, questa è la mia opinione, però... Sì, condivido. Ragazzi, possiamo venirvi a trovare nel vostro quartiere generale prossimamente? Certo, nessun problema. Ovviamente, ovviamente, ricordiamo l'app, Giulia. Assolutamente, scaricate gli Angol, ragazzi dai 15 ai 25 anni, giusto? E insomma, affidatevi anche alle esperienze di chi magari ha vissuto o vive le stesse situazioni adolescenziali. Ragazzi, noi vi seguiremo sempre. Nessuno è un supereroe, abbiamo tutti dei difetti, io non ho neanche tanti like, ho pochi amici, pochi like, poco tutto, ma chissene. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi, bocca al lupo a questo progetto. Qui in studio sta per arrivare Mattia Zenzola, chissà se ci porterà la coppa o la maglia del Bari, dopo la pubblicità un altro content creator e poi Mattia Zenzola, rimanete con noi.